Ciao a tutti. Lega, 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 lega. Così è meglio. Allora, parlare da qua, come diceva Matteo, è sempre una grande emozione. Grazie a questa splendida manifestazione. Oggi è la prima pontida che non ci sono 40 gradi e che non piove e che Dio la manda. E questo è già un fatto eccezionale. Siamo però in una situazione drammatica, in una situazione pesantissima. Dai nostri territori, dal Veneto, dalla Lombardia, l'anno scorso 80.000 giovani sono usciti dai nostri territori per andare in cerca di lavoro all'estero. Stiamo tornando un paese di emigrazione, dove i nostri giovani non trovano lavoro, ma non per colpa delle loro famiglie, non per colpa dell'imprenditoria, non per colpa del mondo dell'economia, non trovano lavoro per colpa di uno Stato ladro che sta ammazzando i nostri territori e le nostre imprese. E allora, di fronte a questa situazione, la cosa inaccettabile è che assistiamo a Roma colui che ha perso le elezioni e che si comporta come un pugile rincoglionito e suonato, cioè Bersani, che sta trascinando tutti noi, perché se trascinasse il sistema romano in malora, tanto meglio, se trascinasse Roma in malora, tanto meglio, ma sta rovinando noi, le nostre famiglie, i nostri giovani e le nostre imprese. Dopo aver perso le elezioni, ci sta portando alla rovina. Perché prima Matteo parlava dei nostri sindaci, delle centinaia di sindaci. Noi siamo di fronte a uno Stato ladro che ci rapina anno dopo anno. Il Comune di Verona, la città di Verona, io vi do l'esempio di Verona, ma è uguale in tutta la Padania. Noi versiamo ogni anno più di un miliardo di tasse allo Stato centrale, tra IRIS e IRPEF, tasse dello Stato, quest'anno lo Stato ci restituirà 10 milioni di euro, ci restituirà l'1% di quello che paghiamo in tasse. L'elemosina, lo Stato centrale, se la può tenere, perché non esiste in nessun paese del mondo occidentale che lo Stato si tenga e bruci il 100% delle tasse che pagano i cittadini. Una parte deve restare ai territori. Per questo la battaglia con i nostri governatori, con Maroni, con Zaia e con Cota, per tenere il 75% delle nostre tasse qua. E invece il primo pensiero di chi oggi rappresenta le Camere, ovvero sia la Presidente della Camera, noi ci ricordiamo il suo discorso introduttivo, il primo pensiero è stato per i clandestini e per i delinquenti che stanno in galera. Questi sono quelli che volevano vincere le elezioni. Quando invece c'è un problema a sicurezza, del problema a sicurezza non si parla più. Avevamo uno splendido Ministro dell'Internio, che oggi è uno splendido governatore della Lombardia. Da quando è andato via Maroni sulla sicurezza è un disastro, perché ci sono furti dappertutto e la Presidente della Camera, anziché preoccuparsi delle famiglie derubate, si preoccupa dei delinquenti. Questa è la situazione che c'è a Roma e quest'ultimo provvedimento che oggi viene sbandierato come un provvedimento per rilanciare l'economia, un provvedimento scacciacrisi. Guardate che è veramente il colmo che stiano contrabbandando come un grande provvedimento un provvedimento dove lo Stato decide per se stesso di pagare i debiti, cioè non stanno rilanciando dell'economia. E addirittura all'inizio, se vi ricordate, pensavano di pagare i debiti dello Stato aumentando le tasse. Cioè dicevano alle famiglie, ai cittadini e alle imprese, vi aumentiamo le tasse, ci date dei soldi e noi con questi soldi paghiamo i debiti che abbiamo verso di voi. E' come se voi doveste a uno mille euro, questo viene da te e gli dice mi dai altri mille euro, tu glieli dai, glieli dai indietro e dice bene siamo pari. Questo è uno Stato ladro che sta ammazzando la nostra economia anche attraverso lo Stato, i debiti che lo Stato ha verso ciascuno di noi. Il governo Monti, il governo Salva Italia, il salvatore della patria Mario Monti, l'anno scorso ci ha fatto pagare 60 miliardi di tasse in più e ha fatto aumentare il debito pubblico di 90 miliardi. Ha bruciato 150 miliardi in un anno, che sono 2.500 euro per ogni italiano, che sono più di 4.000 euro per ogni padano. Questo ci è costato il governo Monti. E quest'anno i provvedimenti dell'ancora governo Monti, perché c'è ancora lui, è quello che cominciano a pagare i debiti che ha lo Stato nei confronti delle imprese, con gli imprenditori che si suicidano per i debiti che non vengono pagati dai loro debitori. E allora dobbiamo difenderci, diceva bene prima Matteo Salvini, che ci dobbiamo difendere perché noi veneti siamo dei mona, voi lombardi siete dei pirla, perché non ci sappiamo difendere da uno Stato ladro e assassino. Questo è il nostro problema. Siamo troppo buoni, abituati a subire, a lavorare e a pagare le tasse. E quando ci chiedono di lavorare di più, lavoriamo di più. Noi lavoriamo di più di tutti i paesi europei, paghiamo più tasse di tutti i paesi europei e in cambio dallo Stato non riceviamo un cazzo. Questa è la situazione della padania. Questa è la situazione della nostra gente. E allora dobbiamo cominciare a difenderci con i nostri tre governatori, con Zaia, con Maroni e con Cota. Ce ne sono altri che dovrebbero fare la stessa cosa, ma il governatore dell'Emilia Romagna è lì che pensa a fare il futuro ministro anziché pensare ad aderire alla macro-regione come dovrebbe. E allora partiremo noi, con i nostri governatori, con i sindaci, perché noi sindaci ci mettiamo la faccia. Se c'è da prenderci la responsabilità, noi per difendere la nostra gente, la responsabilità ce la prenderemo. E voi con noi, e voi dietro di noi, tutti insieme, con Zaia, Cota e Maroni, fino alla libertà della padania. Viva la Lega, viva la padania, viva la libertà!